buongiorno a tutti come vedete siamo a chioggia oggi è una bellissima giornata c'è il sole fa caldo ma non troppo quindi veniteci a trovare ve lo dirò sempre perché venite a curiosare sono novità tutti i giorni di giovedì ce ne sono ancora di più per voi quindi vi aspettiamo come sempre seguiti su facebook e instagram e vi saluto buona giornata buongiorno amici oggi ottima giornata ottimo tempo inizia a fare caldo abbiamo voglia di spiaggia e di mare noi qui abbiamo l'abbigliamento adatto per i vostri bimbi e le vostre bimbe moda bimba da lucia tutti i giovedì vi aspetta di fronte l'ingresso principale del municipio con prezzi offerte imbattibili per i vostri bimbi e le vostre bimbe vi aspettiamo signori e signori un bacio un saluto a tutti tazze con la scritta chioggia ma sono cinesi tutte roba in proporzione produzione originale con la sua la sua locazione garantita per alimenti va bene in lavastoviglie e a microonde produzione originale che abbiamo in esclusiva soltanto noi perché oggi per gli amanti di chioggia prodotto eccezionale che viene poi venduto volendo con la sua mega confezione quindi per tutti quelli che amano chioggia per quelli che amano il prodotto in esclusiva è qua ed è veramente a portato di tutti ciao carissima mia amica come vedi la meraviglia in esclusiva per tutti quelli che amano chioggia ciao oggi è una bellissima giornata un po troppo calda purtroppo abbiamo i soliti dei nostri bei formaggi i soliti salumi senza lattosio tutti gli affettati senza glutine ne abbiamo per tutti i gusti vi voglio salutare un bacione ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.